Materia. Letteratura latina. Argomento. Plauto. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Agatich. Oggi andremo a parlare e riassumere insieme uno dei commediografi più originali e importanti della letteratura latina, Plauto. Ricordate che in questo video non sarò la vostra insegnante, sarò semplicemente la vostra compagna di banco. Partiamo subito. Allora, Plauto è uno dei più antichi commediografi della letteratura latina di cui possiamo leggere quasi per intero un'opera. Nasce a Sarsina, oggi in provincia di Forlì, tra il 255 e il 250 a.C. Analizziamo il suo nome. Per intero è Tito Maccio Plauto. Potremmo definirlo un nome d'arte. Maccio è una maschera della fabbola atellana. Si riferisce a questa maschera del buffonesco macco, una sorta di pagliaccio, tra virgolette. Il terzo nome, appunto, Plauto, non si riferisce tanto ad una sua caratteristica fisica, ma piuttosto ad un modo di camminare buffonesco durante la scena. Cercava quindi appunto di sottolineare in maniera goliardica il modo di camminare dei vari attori. Quindi gli venne dato questo appellativo. Plauto non era nato a Roma e quindi era un plebeo. La tradizione racconta che lui, prima di diventare un commediografo, era un attore e un giorno decise di investire tutto il suo denaro per un affare commerciale, ma perse tutto. Quindi si ritrovò a fare lo schiavo per pagare i suoi debiti. È molto importante questo aspetto qui dello schiavo perché poi lo ritroveremo nelle sue commedie. Infatti uno dei personaggi più importanti e ricorrenti è quello dello schiavo astuto. Quindi far ricoprire allo schiavo un ruolo principale di persona molto intelligente che riesce sempre con la sua furbizia a risolvere gli enigmi. Un dato certo che abbiamo riguardo la sua vita è il fatto che lui sia stato un attore prima ancora di diventare un regista commediografo. Potremmo definirlo un animale da palcoscenico. Infatti recitava lui stesso nelle opere, dirigeva gli attori, scriveva le commedie, quindi tutta la sua vita fu incentrata sul teatro. L'efficacia del teatro plautino è la somma di diversi elementi. Vediamo quali. Gli intrecci sorprendenti, il ritmo incalzante delle storie, la capacità di creare scherzi, oggi lo definiremmo cabaret, un linguaggio graffiante pieno di immagine e vivacità. La musica. Il teatro di Plauto non era solamente in prosa, ma gli attori cantavano e ballavano durante la scena. Potremmo definirlo una sorta di pre-musical. Ovviamente voi mi direte, ma come facciamo a sapere che effettivamente questi attori li faceva ballare, cantare? Non abbiamo a disposizione immagini video per testimoniarlo, ma abbiamo la metrica. Infatti nella parte cantata la metrica è molto più ricca e più complessa, cantica definita. Invece nella parte in prosa viene usato il metro giambico, è molto meno elaborato rispetto alle parti cantate. L'interesse principale di Plauto non è quello di creare personaggi che abbiano dietro una psicologia, una profondità, piuttosto è mettere in scena personaggi dai tratti caratteristici e definiti, quindi per lo più sempre gli stessi, che si comportano allo stesso modo in ogni scena e in ogni opera. Ovviamente è molto più difficile creare vivacità e creatività all'interno di trame sempre uguali e lì la grandissima bravura di Plauto, proprio nel cercare di sfruttare il linguaggio per creare ogni volta diversi giochi di parole, fra intentimenti, quindi dare quel guizzo in più ad ogni opera. Le commedie di Plauto vengono definite commedie pagliate. Cosa significa? Sono commedie latine di ambientazione greca. In parole povere, Plauto non creava trame nuove così dal nulla, ma le prendeva dal vastissimo campionario offerto dalla tradizione greca, quindi dal teatro greco, per poi ambientarli ovviamente in un quadro moderno, per renderle ovviamente sempre molto accattivanti al pubblico. Creava infatti uno strano mondo fantastico greco e latino, dove l'ambientazione è greca, i nomi sono greci, le trame sono derivate da originali greci, ma la lingua e lo spirito del testo è latino, quindi c'è questa sorta di fusion tra i due mondi. Infatti, se ci pensate bene, tradurre semplicemente una commedia greca dal greco appunto al latino non sarebbe stata per nulla affascinante, anzi troppo lontana nel tempo, non avrebbe coinvolto assolutamente il pubblico. Una commedia invece totalmente latina, troppo vicina, avrebbe potuto aizzare gli animi, qualcuno si sarebbe sentito colpito in prima persona, quindi l'ingegno di Plauto sta proprio lì, cercare di trovare una via di mezzo per non essere troppo noioso e lontano nel tempo e neanche troppo irriverente parlando di storie troppo presenti. Un'altra tecnica ricorrente nel teatro di Plauto per cercare di coinvolgere il pubblico è quella di interrompere di tanto in tanto la scena, fare riferimento a situazioni o personaggi familiari al pubblico, per poi tornare indietro, quindi mantiene questo gioco, ripeto, sempre per catturare l'attenzione di chi lo guarda. Adesso andiamo ad analizzare quali sono i personaggi ricorrenti nel teatro Plautino. Il vecchio. Il vecchio rappresenta il pater familias, un uomo sempre avaro, burbero, che tratta i figli in malo modo, li lascia senza soldi, addirittura molto spesso diventa rivale in amore del figlio, pensate un po', come ne esce dalla scena? Sempre perdente, perché c'è appunto il servo astuto che riesce a raggirarlo e a farlo perdere. Il servo, come vi dicevo a inizio video, è il personaggio più astuto in assoluto, si mette sempre dalla parte del figlio del padrone per aiutarlo in tutti i suoi intrecci amorosi, aiutarlo con il padre, è una sorta di direttore d'orchestra, è lui che dirige tutte le scene, ne esce sempre vincitore. Il giovane. Questi giovani sono senza soldi, incapaci, insicuri, si buttano a capofitto su un amore impossibile, ma non riuscirebbero mai a trionfare senza l'aiuto del servo. Il parassita, come dice il nome stesso, cerca in tutti i modi o di farsi invitare a cena o di prendere dei soldi, quindi cerca sempre di intrufolarsi nella scena ad ogni costo e ad ogni compromesso. Lo sfruttatore di prostitute cerca di abbindolare queste povere ragazze e fa di tutto per non farle sposare con i giovani di buona famiglia, quindi è un miserabile. Poi abbiamo il mondo femminile, che è rappresentato da tre figure, la Uxor, che è appunto la matrona dedita alla famiglia, ogni tanto si preoccupa per le scappatelle del marito, ma è una donna per bene, autoritaria molto. La Virgo, la Vergine appunto, che è la ragazza da sposare, tra virgolette, per bene, in cerca appunto di un uomo che la faccia entrare nella società. Poi abbiamo la Meretrix, la cortigiana. È una professionista che conosce come raggirare, i vecchi con il denaro, ma molto spesso nella scena si innamorerà dei figli di buona famiglia. Nella scena si scoprirà che queste Meretrix hanno una storia molto particolare, in realtà sono figlie di genitori liberi, purtroppo sono state rapite durante la loro infanzia, ma alla fine verranno riconosciute dai loro genitori e potranno sposare il loro amato. Le trame, come abbiamo detto, sono sempre le stesse, di base c'è sempre lo stesso filo logico e conduttore. Abbiamo due giovani innamorati, molto spesso il giovane si è innamorato di una donna di facili costumi, si sovrappongono fra di loro mille ostacoli, mille problemi, dubbi che verranno risolti tutti dal servo astuto, quindi alla fine riusciranno a sposarsi e ad avere il loro lieto fine. Ogni sensazione brutta, negativa, alla fine della scena evapora, quindi anche se all'inizio ci sono magari delle scene un po' più cruente, un po' più tristi, alla fine tutto si risolverà per il meglio, quindi questo proprio è alla base di ogni commedia plautina. Un'altra trama tipica è il gioco del doppio. Esistono infatti sulla scena due personaggi dall'aspetto identico, addirittura a volte gemelli, che ignorano l'esistenza l'uno dell'altro, creando ovviamente sulla scena tantissimi equivoci per poi risolversi ovviamente nel finale. C'è poi un caso speciale da ricordare tra le varie commedie plautine, che è quello dei captivi, cioè i prigionieri. È una commedia di plauto dai toni dolci, molto diversa dalle sue commedie solite e lui ne era consapevole, infatti nel prologo dirà che non c'è neppure un verso con una parolaccia, nessun ruffiano bugiardo e nessuna cortigiana scaltra. Le commedie di plauto hanno il prologo, è una parte della commedia in cui un personaggio entra in scena parlando direttamente col pubblico e raccontando l'antefatto della trama. Attraverso questo espediente plauto rompe la finzione scenica e per dirla diciamo in gergo teatrale rompe la quarta parete. Un altro esempio di rottura della quarta parete si ha quando i personaggi parlano tra di loro della commedia stessa. In questo modo gli spettatori hanno come la sensazione di vedere la creazione della commedia live, è come se lo sketch e le parole da dire si decidessero in quel momento stesso davanti al pubblico. Nelle commedie di plauto c'è un denominatore comune, il fatto che alcuni vincono e altri perdono e soprattutto non vincono i più buoni ma vincono i più scaltri. A differenza dei modelli greci come ad esempio Menandro in cui il bene deve trionfare alla fine sul male, le commedie invece di plauto si basano su un sottofondo morale neutro. Anzi si potrebbe prendere come riferimento per il suo sistema di valori una frase che viene pronunciata famosissima nella commedia Asinaria, Homo homini lupus, ogni uomo è lupo per gli altri uomini. Lo scopo della sua arte è semplicemente quello di prendere l'approvazione del pubblico. Alla fine di ogni commedia dirà applaudite perché è proprio quello il suo obiettivo, quello di ricevere appunto l'applauso finale che gli dà prova che la sua opera è stata un successo. Quindi per divertire il suo pubblico sfrutta al 100% il linguaggio. Un'altra caratteristica è quella di far parlare tutti i personaggi all'applauto, non c'è distinzione tra il servo, il ricco, il giovane, il vecchio. Uno degli strumenti linguistici più utilizzati nelle sue commedie è la famosa tirata, far dire a uno dei personaggi una frase senza respirare mai, quindi tutta ad un fiato, per far rimanere a bocca aperta l'altro personaggio con cui recita e destare ovviamente il riso del pubblico. Un altro effetto comico è dato dalla rissa verbale. Ci sono appunto due personaggi che iniziano ad insultarsi tra di loro utilizzando delle parole che in realtà non neanche esistono in latino, ma che vengono create appositamente da Plauto per l'occasione. Per concludere, qual è il rapporto di Plauto con i suoi modelli? Ovviamente ci riferiamo ai modelli greci. Innanzitutto lui si rifà a modelli greci della commedia nuova. Che cosa prende e che cosa cambia da questi modelli? Prende gli intrecci, l'ambientazione e le istituzioni politiche e sociali. Cosa modifica? Il titolo, nomi dei personaggi e caratterizzazione dei personaggi. Manca, come ho detto prima, l'aspetto psicologico legato ad essi. In che cosa si differenzia da questi modelli greci? Nella comicità dirompente. Nel servo astuto come personaggio principale fa riferimenti anche alle istituzioni romane, quindi non solo prende i modelli passati, ma come abbiamo detto prima interrompe la scena per parlare di qualcosa di attuale che il pubblico conosce bene. La sua più grande differenza infatti con i modelli greci a cui si rifà è il sottofondo morale neutro. Se i greci avevano come scopo quello di arrivare dal male al bene finale con le loro commedie, per Plauto non è così. Il sottofondo è neutro, non vincono i più buoni ma i più furbi. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Abbiamo fatto un bel riassunto, una bella carrellata per poter essere pronti ad un'interrogazione o un compito in classe. Mi raccomando, mettete un bel like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Non dimenticate di seguirmi anche su Instagram. Alla prossima e stay tuned on Agatich. Ciao ciao!